la pratica nascosta l'associazione futuro prossima l'associazione futuro prossima buonasera a tutti non lo so se volete venire più avanti perché ci sono posti cominciamo va bene allora credo che possiamo iniziare buonasera a tutte e a tutti questo di oggi è il secondo appuntamento della scuola di formazione Sputnik pronti per il lancio che come futuro prossimo abbiamo avvertito l'esigenza di cominciare vabbè per chi non ci conoscesse dico che siamo un gruppo di giovani militanti di sinistra nati dopo lo sfacelo del 4 marzo erano due gli obiettivi che ci eravamo prefissi con questa scuola che stiamo provando a portare avanti innanzitutto uno dare un nostro contributo alla ricostituzione di un punto di vista che significa sia provare ad aggiornare la nostra analisi che a riflettere nuovamente sui nostri orizzonti strategici sia riallacciare i fili con la nostra storia la storia che poi è la storia del movimento operaio è una storia che abbiamo liquidato vuoi per superficialità vuoi per ingiustificati imbarazzi troppo in fretta crediamo che questo sia un obiettivo particolarmente importante se vogliamo comprendere pienamente le cause della fasia e dell'inerzia a cui sembra che per il momento siamo condannati e poi pensare storicamente anche una capacità fondamentale per delle menti che vogliono liberarsi da una politica che è fin troppo attaccata a un'azione di cortissimo rispito comunque nell'ottica del primo obiettivo cioè quello della riflessione sul presente qualche settimana fa abbiamo organizzato un incontro con il presidente del comitato scientifico dell'Istituto di Studi Comunisti Karl Marx e Friedrich Engels Mario Calabria per discutere della rivoluzione tecnologico-scientifica dell'ultimo quindicennio invece l'incontro di oggi rientra proprio nella riflessione che stiamo cercando di condurre seppur nella maniera sistematica e limitata e in cui c'è possibile farlo sulla riflessione appunto sulla nostra storia oggi parleremo delle politiche urbanistiche nelle cosiddette giunte rosse di Roma e Napoli una città che nel decennio a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 videro delle giunte di sinistra guidate dal partito comunista sindaco di Napoli può appunto credo che non ci sia bisogno di dirlo Maurizio Valenzi mentre si avvicendarono a Roma il grande storico dell'arte Giulio Carlo Argan Luigi Berdoselli e Ugo Vetere oggi doveva venire anche tra i relatori ci doveva essere anche Walter Tocci che si scusa non può essere con noi perché c'è la commemorazione di Gianni Borni assessore della cultura di quando lui fu vice sindaco a Roma con Rutelli e quindi purtroppo è stato avvisato stamattina e ci tiene a scusarsi e dice che verrà a Napoli appena possibile però ne discutiamo anche con Vezio di Lucia che è uno dei più grandi urbanisti italiani che è stato a lungo funzionario e dirigente del Ministero dei Lavori Pubblici e credo che in questa veste Vezio abbia collaborato con Maurizio Valenzi per la ricostruzione di posto terremoto con l'Egimese Sbaglio e poi vabbè Vezio è stato anche consigliere regionale del DC nel Lazio dal 90 al 95 presidente dell'associazione Granuncio Bianchi Bendinelli e soprattutto è stato assessore all'urbanistica della prima giunta Bassolino quindi un po' tutti lo ricordano come il padre del piano di Bagnoli della variante occidentale e vabbè poi forse è stato il protagonista della fase eroica dell'urbanistica napoletana diciamo così e vabbè poi ringraziamo la quinta municipalità per la possibilità che ci dà in particolare l'assessore alla cultura del lavoro di Gisica a cui dopo cederò la parola perché ci teneva a darci il saluto e a partecipare anche quella discussione due parole dico giusto per introdurre il tema del dibattito anche come i sistemi cronologici poi puoi entrare nel vivo della discussione l'esperienza delle giunte rosse si inserisce in una fase di grande crescita dei consensi del partito comunista alle elezioni del 15 e del 16 giugno del 75 il partito comunista alle elezioni amministrative si affermò come il primo partito in gran parte dei maggiori capologhi di provincia italiana tra cui anche Napoli dove superò il 32% dei consensi e si insediò Maurizio Valenzi invece il 20 e il 21 giugno dell'anno successivo il 76 a Roma con credo il 35 e 4 dei consensi i comunisti si affermarono come prima forza e quindi ciò permise di fare insediare Giulio Carlo Argan come sindaco e questa fu un'invenzione di uno storico dell'arte sindaco della capitale di Petro Sell il segretario della federazione romana e vabbè dopo la elezione dell'80 Valenzi sarà sindaco fino all'83 purtroppo il suo secondo mandato verrà interrotto bruscamente dopo che dovette affrontare l'emergenza del terremoto dell'80 mentre a Roma nel 79 Argan lasciò il posto a Petro Sell che purtroppo fu stroncato da un malore il 7 ottobre dell'81 e quindi dovendo finire piuttosto prematuramente il suo secondo mandato e ha intervenuto poco prima nel comitato centrale del partito comunista fino all'85 poi amministrava la città Ugo Vetere che era stato assessore al bilancio brillante come assessore al bilancio di Petro Sell forse di meno come sindaco di Roma poi vabbè dopo entrambe le città saranno condannate allo stesso destino cioè ritornare al mal governo della DC e degli alleati del pentapartito con le facili conseguenze che si possono immaginare in termini di gestione urbanistica le giunte rosse furono probabilmente l'esperienza più interessante dell'ultima fase del movimento operaio in Italia l'attenzione alla realizzazione di un'effettiva guaglianza sul piano sociale e ancora di che ispirò quelle giunte ancora oggi un esempio per tutti noi qui scusatemi ma leggo una citazione con cui Argan e assunse la sua esperienza sindaco quando sono stato sindaco mi sono interessato una volta mi sono interessato alla scoperta di quella realtà pietosa che era la città povera la miseria delle periferie e anche delle baraccopole appena fuori dalla città cui riferimento era chiaramente alle borgate agglomerati dei baracche che erano nati in seguito ai sventramenti mussoliniani che purtroppo hanno sfigurato per sempre molte parti del centro di Roma ed è incredibile che ci sia qualcuno che ancora alle ultime elezioni rivendicava quanto Mussolini fosse stato un grande urbanista ma questo forse è meglio di non diciamo sono personaggi e argomenti di cui è meglio non parlarne oggi Argano prosegue dice posso dire di essere riuscito a eliminare tutte le baracche nel corso del mio mandato si sono potute ospitare le persone in qualche modesto albergo ma si sono eliminate le baracche per Napoli parlare delle giunte rosse di Valenzi significa parlare del piano delle periferie e dell'esemplare di costruzione di posto terremoto per cui Antonio Cederna notoriamente fu un osservatore un critico molto attento se è vero e grazie a tutti